Abbiamo in nove mesi sostanzialmente messo in condizione tutti i ragazzi di questo centro del nostro comune di sedere nei banchi di scuole belle, efficientate e sicure. I nostri ragazzi che sono stati fino al mese di dicembre presso la scuola primaria adesso finalmente possono inaugurare stamattina al rientro la scuola. Siamo molto contenti perché è una scuola messa in sicurezza. Con interventi di consolidamento strutturale notevoli su tutto l'edificio che ha i suoi anni notevoli anche per quanto riguarda l'efficientamento energetico di cui abbiamo ottenuto contributi dalla Regione e dal GSE del Ministero per l'Economia e Finanza attraverso la sostituzione di tutti gli infissi, la sostituzione della caldaia quindi un efficientamento che terrà i ragazzi più caldi l'inverno e più freschi l'estate. Poi abbiamo rinnovato completamente i servizi, tutti i servizi, i controsoffitti, le superfici delle pareti. È giusto rientrare in presenza perché è anche l'occasione se vogliamo questa oggi per ringraziare il personale docente, il personale non docente e soprattutto i ragazzi che hanno già affrontato con molta serietà, devo dire, con molto senso di responsabilità nonostante la loro giovanità questi momenti. Quindi è giusto garantire la didattica in presenza fin dove naturalmente è possibile farlo in sicurezza come nel caso odierno. Chiaramente la partenza di stamani è stata una partenza piuttosto faticosa e non sappiamo poi nei giorni successivi quello che potrà accadere perché abbiamo sia personale, collaboratore scolastico che insegnanti con problematiche legate appunto al Covid e quindi un numero abbastanza cospicuo. Quindi stamattina proprio abbiamo fatto i salti mortali proprio per assicurare almeno il primo giorno insomma di rientro con un orario completo. Poi vedremo nei giorni successivi quello che potremo fare. Era giusto posticipare? Forse probabilmente sì, anche perché posticipare avrebbe significato comunque che i ragazzi potessero lavorare sempre a distanza, in dad e quindi non perdere dal punto di vista insomma delle cose da fare in classe. Però ci dobbiamo attenere a quello che ci viene detto.